Sant'Ignazio di Loyola, che fondò l'Ordine dei Gesuiti, svolse la sua opera religiosa, nella prima metà del XVI secolo. Un giorno egli diede una lezione ad un peccatore, riuscendo a convertirlo. Viveva a Roma un uomo della nobiltà, molto ricco, che però in certe azioni che compiva, non viveva cristianamente. A volte commetteva alcuni peccati gravi. In seguito si pentiva grandemente, riproponendosi di non commetterli più. Dopo, però, egli non faceva attenzione a evitare le occasioni di peccato, in modo tale, che ricadeva spesso negli stessi peccati. Un giorno, il nobile era particolarmente afflitto per la sua triste condizione spirituale, e conoscendo la fama di santità di Sant'Ignazio di Loyola, decise di andarlo a trovare, per chiedergli consiglio. Poco dopo, il nobile si presentò alla porta del convento dove risiedeva il santo, e chiese di potergli parlare. Il santo si presentò, e il peccatore pentito, gli chiese di pregare per la salvezza della sua anima, poiché si trovava nella condizione di quei peccatori che desiderano salvarsi, ma non riescono ad essere costanti, nella fedeltà alle leggi del Signore Dio. Così, essi cadono spesso nei peccati, e si trovano prigionieri dei diavoli. Sant'Ignazio ascoltò con attenzione, e gli promise che avrebbe pregato per la sua conversione e salvezza. Gli diede anche vari consigli, su come fare attenzione alle tentazioni, e a come fuggire le occasioni di peccato. Per qualche settimana, il nobile resistì. Poi, ricadde nei soliti peccati gravi. Dopo un mese, egli tornò dal santo. E con dolore, gli disse che non ce l'aveva fatta, e che forse lui non aveva pregato abbastanza per la sua conversione. Il santo gli disse. Invece io ho pregato per voi. Ho pregato molto, ogni giorno. Il nobile gli rispose. Ma allora perché io sono caduto nei peccati? Peggio di prima? Sant'Ignazio lo fissò. Poi gli chiese se poteva aiutarlo a spostare un piccolo tavolo, da una stanza ad un'altra del convento. Il nobile rispose che lo avrebbe aiutato molto volentieri. Così, Sant'Ignazio prese da un lato il tavolo della sua cella, e il nobile prese l'altro lato. Poi, si diressero verso l'uscita della stanza, con Sant'Ignazio con il volto diretto verso la porta, e il nobile girato di spalle all'uscita. Ad un certo punto, il santo si fermò. E prese a tirare il tavolo dalla parte opposta a dove stavano andando. Il nobile si accorse subito, e fermandosi anche lui. Gli chiese sorpreso. Padre Ignazio? Ma come potremmo portare il tavolo nell'altra stanza, se tirate il tavolo dalla parte opposta? Sant'Ignazio lasciò il tavolo, e si avvicinò al nobile. Poi, gli disse. Fratello mio. Ecco qui precisamente, il vostro caso. Io sto pregando per la vostra conversione. Ma voi, non aiutate la mia preghiera, con la vostra cooperazione. Anzi, tirate nella direzione delle tentazioni, e delle occasioni di peccato. Ma allora, come potrete convertirvi veramente al Signore Dio? Se invece andassimo nella stessa mia direzione, tutto andrebbe nella maniera migliore. Il nobile rimase meravigliato, e comprese la lezione. Tornato al suo palazzo, decise di seguire i consigli di Sant'Ignazio, e cominciò a vivere fedelmente i comandamenti del Signore Dio. Così, perseverò nella grazia divina, e si salvò l'anima. Anche oggi, ci sono delle persone che vorrebbero salvarsi l'anima. Ma cadono spesso nei peccati gravi. Anche se chiedono alle anime pie di pregare per la loro salvezza. Quei peccatori molte volte non fanno i minimi sforzi. Per evitare le occasioni di peccato. Ci sono altre persone, che si trascinano in molti peccati gravi. E poi si lamentano sempre, che sono piene di disgrazie e di sfortune. Ma allo stesso tempo, non pregano, né fanno il minimo tentativo di cercare e di conoscere Dio, o di istruirsi nella fede, e nella dottrina cattolica. Se tutti quei peccatori si dedicassero di più alla preghiera, alla frequenza della Santa Messa e della confessione, vivendo una vita in grazia di Dio, eviterebbero molti guai, problemi e sfortune, e certamente si salverebbero l'anima.